Io ti chiedo solo una cosa poi ti lascio al tuo popolo, ce la farete veramente a conquistare Roma? Secondo me sì, non solo perché il sondaggio lo fate anche voi come l'ho fatto io stamattina al mercato Alquadraro Ci sono andato senza dire niente a nessuno così almeno i centri sociali dormivano ancora e sono riuscito a parlare, è stato un successo incredibile, abbiamo passato un'ora dentro questo enorme mercato e non c'era commerciante, ambulante che non abbia chiesto il volantino, foto, signore, signori, tutti a dire sembri più grasso in televisione però sei meno grasso di quello che sei Ma va bene anche quello per carità di Dio, va bene anche quello e quindi va bene così, quindi se il sondaggio è questo sì, poi ve lo dico sotto voce, oggi è martedì, quindi mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, cinque giorni, non si possono pubblicare i sondaggi negli ultimi giorni Non lo pubblico ma vi dico l'ultimo che ho sbirciato, se mi arrestano fa niente, tanto una più una meno, non è un problema L'ultimo sondaggio sbirciato dice che ad oggi ci sono tre candidati nell'arco di un punto percentuale che si giocano i due posti al ballottaggio Quindi ci sono tre candidati nell'arco di un punto, a stasera la prima di questi tre candidati ma capite bene che la differenza è risicata Si chiama ai loro Giorgia Meloni Che però ripeto se la gioca con lo zero virgola, con la Raggi che sta perdendo terreno perché più parla più la gente E infatti probabilmente la manderanno in convento da qui a domenica per evitare che faccia altri danni E con Giacchetti, ma io anche se uno avesse simpatia per Giacchetti non capisco visto che ha presentato la sua squadra di assessori come un romano normale, possa votare uno che gli promette che se vince farà Livia Turco assessore ai servizi sociali Quindi però vabbè Fa niente, non occupiamoci degli altri, occupiamoci di noi stessi Ho detto tre candidati nell'arco di un punto perché Marchini è fermo con la Ferrari in tangenziale Non è pervenuto, non ce l'ha fatta a raggiungerci qua a teatro Entrando ho beccato una signora che fa Sono candidata di Marchini, ho il mio ufficio elettorale qua Poi dovremo metterci d'accordo per il ballottaggio Sì signora, dovrà decidere a che ora andare a votare per la Meloni al ballottaggio Quindi non è che ci siano tanti, però uno, ricordare ai tanti romani in buona fede Incasinati da delle televisioni che sono schifosamente al servizio di Renzi Da dei giornali che sono schifosamente al servizio di Renzi Perché lo dico con tutto il rispetto, poi fa poca differenza Rai, Medias, il messaggero, il tempo Sembra il bollettino di guerra dell'istituto Luce a favore di Renzi Ma noi saremo anche più forti di questo Però a spiegare che l'unico voto di centrodestra A Roma È quello per la Lega e per la Meloni Non ci sono altri centrodestra a Roma Perché mi rifiuto di pensare che sia centrodestra Qualcuno che è sostenuto Da Gianfranco Fini Che di danni li ha già fatti abbastanza Quindi L'unico centrodestra E poi vi mancano cinque giorni Come mancano a me Io domani sarò in Piemonte Dopodomani sarò in Romagna e in Emilia E ci sono i centri sociali di Mezza Italia Che mi aspettano a Bologna E io aspetto loro E vediamo chi ha la testa più dura Venerdì chiudo Venerdì chiudo in Lombardia Vi chiedo di non sprecare neanche un minuto Perché io me ne sono reso conto stamattina Anche ieri quando ho volantinato per un'oretta Alla fermata a metro C'è tanta gente che ci aspetta Daglie ma te Daglie ma te E io gli do E tu daglie che io gli do E gli damo Però Uno su due Uno su due Che fa la foto Che ti stringe la mano Che dice Grandi Mi raccomando Alla domanda di tre secondi Signora ma lei sa come si vota? No E uno su due mi dice Ma tanto io per votarti Faccio la croce sul nome della Meloni Non basta signora Questo ci riempie di gioia Ed è metà dell'opera Però io ho fatto il volantino apposta Col simbolo Perché io voglio che Giorgia Meloni Diventi sindaco di Roma Ma io voglio dei consiglieri della Lega in Campidoglio e nei municipi A fare A fare A controllare Carta per carta Strada per strada Via per via Delibera per delibera Quindi Io con questo La chiudo Perché se parlassi un'altra mezz'ora a voi Ci convinceremmo a vicenda Preferisco che voi usiate la mezz'ora che io vi risparmio Fuori Fermando le macchine Piazzandogli il volantino dentro Alla vecchia maniera Uno su due ti manda a quel paese Magari Ma l'altro è lì che aspetta Perché Il dato incredibile Che ad oggi la metà dei romani non andrebbe a votare Quindi ci sono cinque giorni Non per far cambiare idea a quello che vota il PD Perché mio nonno era partigiano E se tuo nonno partigiano uscisse dalla tomba Ti prenderebbe a schiaffi Se voti il PD Visto come il PD ha ridotto Ha ridotto l'Italia Però questa è una considerazione mia Lo diceva il ragazzo di 16 anni I potenti li abbiamo contro quasi tutti Non illudiamoci che ci sia niente di facili Grandi editori televisivi Che poi magari costruiscono pure Grandi editori dei giornali Banca d'Italia Oggi stasera quando tornate il telegiornale vi spiegherà Che cosa deve fare l'Italia Detta dal direttore generale della Banca d'Italia Che per mestiere è pagato profumatamente Per controllare che le banche non saltino E dove cazzo era mentre le banche saltavano Il governatore della Banca d'Italia Che oggi ci spiega che cosa bisognerebbe fare Più che mettergli un microfono in mano In un paese normale sarebbe indagato Processato e arrestato Perché ha rovinato milioni di risparmiatori italiani Confindustria Confindustria Marchionne e Renzi ormai sono una coppia di fatto E chiederanno anche un'adozione gay fra poco Perché Perché Chi si somiglia si piglia E voto sia referendum Oggi la vergogna Se c'è un settore massacrato dell'economia italiana Dall'Europa e dai governi di sinistra è l'agricoltura Di cui magari si parla poco nelle grandi città Però a Roma come a Milano Mangiamo frutta Verdura Beviamo latte Mangiamo carne E quello che hanno scelto a Bruxelles È che noi dobbiamo mangiare e bere schifezze Che arrivano dall'altra parte del mondo L'olio della Tunisia Le arance dal Marocco Il latte in polvere Il riso dalla Birmania Cosa dice oggi quel fenomeno del segretario generale di Coldiretti Che è uno dei principali sindacati Che teoricamente dovrebbero difendere gli agricoltori Che nota di cronaca leggevo sull'Espresso Questo che difende gli agricoltori nel 2014 Ha preso uno stipendio di 1.800.000 euro 150.000 euro al mese 5.000 euro al giorno Pagato con le tessere sindacali Di chi si spacca la schiena per mungere la vacca Alle 4 della mattina Ebbene sto fenomeno Oggi ha detto Ma il referendum di Renzi è una figata Voto sì Renzi ha fatto tanto per l'agricoltura Sì magari per l'agricoltura cinese Tedesca, marocchina Ma voi vi rendete conto di quanto I soldi E il potere Possano arrivare A negare l'evidenza Quindi Ne abbiamo contro tanti Che sono ricchi Ma noi siamo di più Magari con meno grano in tasca Magari con meno potere sotto le mani Ma con più libertà E io non baratto la libertà per i soldi Perché io non sono schiavo di nessuno E quindi questa gente avrà una brutta sorpresa Questa gente Hanno rischiato di avere la prima brutta sorpresa in Austria Dove siamo andati a letto la domenica sera Col fatto che aveva vinto Quello brutto e cattivo Di destra Xenofobo Leghista Razzista Populista Fascista La mattina Aprono 600.000 buste Perché hanno votato in 600.000 per posta In alcune città austriache hanno votato Il doppio delle persone A 20 diritto E guarda caso Per posta Sembrava c'è posta per te Ha vinto quell'altro E quindi Niente sarà facile Questi controllano I giornali Le televisioni Le radio I tribunali Perché in nove casi su dieci Se vuoi far carriera in magistratura O ti iscrivi alla sinistra O carriera non la fai Gran parte delle scuole Delle università I sindacati Che sono una rovina Per i lavoratori italiani Che sono una rovina Per i lavoratori italiani E quindi Noi abbiamo Le persone libere Abbiamo I taxisti Gli studenti I commercianti Le partite IVA Gli artigiani Il popolo Le persone normali Quelli che Che sanno che le tasse Non sono calate Che sanno Oggi sono usciti Ma vi dico Poi stasera Ditemi se sbaglio Guardate il telegiornale E ditemi se sbaglierò Sono usciti i dati Istat Sull'occupazione Titolo La disoccupazione Torna a salire 11,7% Commento di Renzi Il lavoro riparte Scommettiamo Che i telegiornali Stasera diranno Che il lavoro riparte Scommetto Ma questi Stanno scherzando Col fuoco Perché mentre Continuano a dire Non c'è problema Con l'immigrazione Non c'è emergenza Anzi Chi lo dice È meschino 800 morti In una settimana 13.000 sbarchi In una settimana Interi quartieri Di Roma In mano ad altri Delle belle Espulsioni Di massa Quartiere Per quartiere Per ripulire Le nostre città Dal mio punto di vista Sono l'unica risposta E soluzione Però Questi stanno scherzando Col fuoco Perché tu puoi andare In onda Tutte le sere Al telegiornale A dire Ho ridotto le tasse L'Italia riparte L'agricoltura è rinata I negozi aprono Quello che però È a tavola Che sta guardando Il telegiornale Dice Cazzo Io il negozio L'ho chiuso Io la partita IVA L'ho chiusa Mio figlio Il lavoro Non lo trova È andato a Londra Per lavorare A mia madre La pensione L'hanno abbassata La tassa sui rifiuti Qua mi è aumentata E c'è monnezza Ovunque Nonostante sia la tassa Rifiuti più cara D'Italia Che è una roba Da quarto mondo Quindi Vi chiedo solo E chiudo Di tenere Duro Perché la verità Viene a galla Perché la libertà Non ha prezzo Se pensano che io O voi Siate in vendita Hanno sbagliato a capire Da qua Comincia il futuro Quindi Con serenità Col sorriso Sulle labbra E soprattutto La grande differenza Rispetto a quasi tutti Gli altri partiti Che per me Come per voi Il difficile Il lavoro Comincia il 6 giugno Comincia il giorno Dopo aver preso i voti Mentre la stragrande Maggioranza Degli altri candidati Che adesso hanno fuori I manifesti I volantini Sorridenti Spariscono Cambiano il numero Di telefono Cambiano la mail Cambiano l'ufficio Cambiano città Cambiano pianeta E non li trovi più Per i prossimi 5 anni Noi comunque Va dalle elezioni Il lunedì Saremo al mercato Il martedì Saremo in piazza Il mercoledì Saremo fuori Dalle scuole Se siete qua E chiudo Tenete presente Che se siete convinti Di essere qua Per voi sono rogne Per voi sono rogne Perché Perché è una vita difficile Perché Perché la vita Del pidino è facile È buono È generoso È solidale È intelligente Io adesso Mi tolgo la soddisfazione Alle 7 Vado in stazione Termini A presentare In stazione Termini Il mio libro E a firmare le copie Del mio libro Proprio in una stazione Che dovremmo liberare Da un bel po' Di balordi Che ci sono in giro Per la stazione Termini Però Se avete Se avete voglia Di farvi una vita grama Ma di arrivare a casa Con la coscienza a posto E di guardare un domani I vostri figli A testa alta Perché mentre qualcuno Svendeva il futuro Del suo paese Il papà e la mamma Combattevano Il papà e la mamma Combattevano E allora avete trovato Il posto giusto Poi per gaita Mi ha insegnato mio nonno Con cui andavo a pescare Da piccolo Le battaglie Se le fai Le puoi vincere E le puoi perdere Quello che non sopporto È colui Che la battaglia Non la fa È quello che in campo Non ci scende Perché Chissà Cosa succede Ecco Come Come scriveva Gramsci Giusto per andare in campo Altrui A citare Io odio Gli indifferenti Non sopporto I romani Che se ne fregano In questi Cinque giorni Andate in giro A dire Che cambiare Roma Si può Non sarà facile Non ci mettiamo Una settimana Abbiamo cinque anni Metteteci alla prova Per questi cinque anni In bocca al lupo Buona battaglia E conto di tornare Per il ballottaggio E di vincere il ballottaggio Viva la Lega E grazie A tutti voi Per quello che farete Da qui a domenica Grazie di cuore a tutti Fuori a far campagna elettorale E ora fotografie libere Grazie a tutti